ciao a tutti allora secondo e ultimo video sugli acquisti che ho fatto a milano nel weekend devo essere sincera qui qualcosina in più l'ho l'ho presa e gli acquisti sono un po misti perché c'è muci c'è il dm e c'è parfois però prima di fare tutto questo io non solo sono ho messo piede sul suolo milanese la prima cosa che ho fatto è andare da mac perché mi ero portata le confezioni vuote del back to mac non ne avevo 5 ne avevo 6 infatti lui mi ha detto ne vuoi tenere una ho detto no non ti preoccupare non me lo far riportare indietro perché tanto insomma non non avrei avuto modo di terminare ancora cose avevo quelle confezioni vuote da una vita e quindi ho preferito no mi ha detto scegli il rossetto e lì mi si è aperto un mondo nel senso che non mi ero studiata le colorazioni avrei potuto farlo sul sito sono andata così ed ho scelto un saten queste twig twig non twig è un nude e per la prima volta mi sembra strano entrare da macchina spendere niente anche se c'erano varie promozioni è un portabilissimo colore da giorno ve lo faccio vedere e mi è piaciuto subito appena l'ho visto quindi molto contenta di aver avuto questo rossetto la seconda tappa è stata andare da parfois mia sorella mi ha regalato varie borse di parfois in questi anni e devo essere sincera in questo periodo visto l'avvicinarsi si si prospetta della bella stagione volevo rimpicciolire le mie borse perché mi sono stancata di andare in giro con questi valigioni una delle cose che mi frenano di più è il portafogli perché io ho un portafogli che non faccio gesti scusate che è grosso così che mi serve perché è bello pieno delle mie cose però ho detto se voglio cambiare che cosa faccio e allora sono andata da parfois che ho preso questo c'era in tre colorazioni una con rosa il bordeaux uno tutto rosso che mi incuriosiva moltissimo ma ho pensato che questo bianco nero e senape fosse il più adattabile a tutti i tipi di borsa è veramente minuscolo il palmo di una mano ho fatto le prove per vedere se c'entravano i documenti ed è molto capiente sono si apre molto dentro il bianco ha lo spazio per i soldi di carta i soldi le monete le schede e altri posti per altre schede la carta d'identità non mi c'entra perfettamente ma mi basta avere la patente voglio dire è quel portafogli che uso per andare a fare una spesa veloce o quella volta che vado a cena fuori 14 euro e 99 mi sembra fatto molto bene l'avevo visto su zalando in effetti mi piace mi piace davvero tanto dopodiché ci siamo spostate al dem dem è una catena io credo sia tedesca non vorrei dire bagianate che sia austriaca no io credo che sia tedesca e ho preso un po di cosine allora prima le frivolezze costavano pochissimo un euro e qualcosa e ho preso due confezioni di spazzolini da denti per le gemelle a loro lo cambio molto molto spesso e questi sono dei sei anni grazie al cielo mia sorella parla tedesco però comunque dietro alle confezioni adesso non su questo però ci sono i dettagli in italiano quindi insomma ci si ce la ce la si cava vabbè era facile accadirsi comunque queste erano le due colorazioni presenti e ho preso questo mentre per me ho preso questo qui fucsia fucsia e viola fucsia e blu che mi è piaciuto veramente tanto ho preso da provare due mini sites di doccia crema uno vaniglia e cocco perché lo sapete vaniglia e cocco e vaniglia e cocco e l'altro è al latte e miele vedete sono da 50 ml che profumo io queste cose le compra scatola buono non sembra neanche artificiale avevano tantissime sites da viaggio ho voluto provare solo questo poi mi sono fatta passare uno sfizio di una cosa che ho sempre desiderato avere non so quando la uso che è lo spray per la bocca cool fresh credo che sia costato un euro e 99 l'ho sempre desiderato avere per rinfrescarmi l'alito non spruzzare negli occhi ecco quello è probabile che io ce la faccia non lo so perché ero una cretinata che volevo e l'ho presa diciamo così poi ho preso delle salviette igienizzanti queste sono 40 sono salviettine igieniche si possono usare sui sanitari sulle maniglie del telefono sulle superfici a contatto con gli alimenti come i taglieri e superfici di lavoro della cucina si passa sulla superficie si lascia a dire 30 secondi e questo mi è piaciuto molto dentro casa non credo di utilizzarle perché preferisco acqua e detergente però o dare fuoco però insomma c'è io mia sorella me ne aveva già regalato una confezione piccola infatti l'ho usata in questo viaggio soprattutto perché quando va in giro con le bambine i sanitari diventano un problema e ho voluto prendere questa da 40 perché il prezzo era concorrenziale ed era molto più conveniente quindi ho preso queste anche se immagino che non sia una confezione pratica da portare in giro poi ho preso io non ho un diffusore però ho visto che c'erano vari oli per diffusori e ho preso l'olio essenziale d'arancia che veniva un euro e 99 mi piaceva perché energizzante e rivitalizzante ho detto ma sai un euro e 99 me lo tengo visto che comunque c'era una mezza idea di prendere un diffusore per aromi però insomma quello di musico stava troppo che era quello che avevo puntato quelli su amazon mi sembravano cioè non trovavo la recensione adatta ecco diciamo così e quindi ho deciso di prenderlo mi sono spostato e ho visto che c'era il paradiso delle tisane non c'è c'erano solo c'erano soprattutto tutti gli yogi tea la linea del dem e infatti ho preso questo alla menta e la vaniglia che è un preparato bio per infuso a base di erbe e spezie e poi c'erano tutti quelli della clipper e io che cosa non potevo prendere se non il tè nero alla vaniglia e quindi ho preso questo io sono stata così contenta ce n'erano tantissimi però non lo so non mi ispiravano fino in fondo e poi soprattutto per favore smettete di mettere in ogni singolo infuso la cannella odio la cannella ne usata talmente tanta negli anni precedenti che ora non la sopporto più poi visto che le mie unghie sono in condizioni pietose tra virgolette nel senso che si stanno un pochino riprendendo ma sono molto fragili e tendono a spaccarsi proprio a sfaldarsi ho voluto prendere questo l'indurente per le unghie della mavala che non ha un prezzo bassissimo perché comunque stiamo parlando di 5 ml credo che costi 14 o 16 euro ed è questa boccettina piccola piccola però ho detto no voglio provare perché mavala mi piace non ha formaldeide si utilizza una volta a settimana della stessa linea io avevo già provato quello lo smalto quello con le fibre in due fasi però ho detto no quello ci vuole più tempo quindi ho preferito prendere questo poi ho preso io cercavo la crema della lavera al co al miele per il corpo che mi era piaciuta tantissimo non c'era però ho voluto prendere della al verde la crema olio per il corpo gelsomino e sesamo che secondo me anche per la primavera fa la sua bella figura prodotto in germania vabbè texture per pelli molto secche poi ah sì questi questi non li ho mai trova allora io uso soltanto sacchetti che ha perché mi piacciono sono resistenti si chiudono bene però io cercavo questi con la zippetta e c'erano di varie forme però io ho preso quella media poi casomai la prossima volta che vado a milano o viene mia sorella mi faccio portare le altre vedo come mi trovo con questa perché c'era la quella proprio piccola questa è quella dalla forma da un litro e voglio vedere come come mi ci trovo per le merende per importare biscotti a scuola alle bambine nella parte del bio c'era il mondo intero quando ho visto questa cosa ho detto no non posso non prenderla ho preso la salsa tagli la crema di sesamo biologica dentro ci sono soltanto i semi di sesamo decorticati ho detto pesa non me ne frega niente perché sono 300 grammi vegano vivibio tutto resta presso e quindi ho preferito prenderla si può variare per si può utilizzare sia per dolcificare o come crema da spalmare sulle fette biscottate oppure sul pane per dolcificare la preparazione si può usare il malto o il miele o se renderla salata con la salsa di soia e visto che c'ero proprio di fianco ho preso anche della linea sempre della dm l'olio di cocco che io principalmente utilizzo per struccarmi e quindi questo non è raffinato e bio insomma non vedevo l'ora di di prenderlo l'unico regalo che mi sono fatta al di fuori di queste piccolezze era una cosa sta finendo il mio fondotinta ho provato questo della maybelline swatchandomelo e mi è piaciuta molto la coprenza perché tendo a cercare qualcosa che copra di più ho preso il super stay 24 ore full coverage foundation io ho preso la confezione true ivory 03 naturalmente lo tengo per il momento ancora chiuso poi mia sorella mi ha dato un suo max un suo della mac che a lei non piace particolarmente e quindi questo è quanto poi siamo andati in piazza ga 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 niente audenti posso dire in piazza udenti e lì c'è muci entrare da muci è meraviglioso si respira una calma una serenità in quel posto che è stato bellissimo sono entrata da sola con stella stella ormai dopo l'ennesima cazziata lei entra e a tutta voce di buonasera e quindi c'era il monaco buddista che è sussultato perché c'era un monaco buddista non ho capito perché comunque aromi musica soft tutti tranquilli cose bellissime naturalmente ho guardato un po di cartoleria poi ho detto non mi serve niente quindi e avevo visto una cosa che mi piaceva tanto che era il diffusore di cui vi parlavo che però aveva un prezzo non bassissimo perché costa 79 e 90 credo quindi sono uscita mio marito era andato a prendersi un caffè l'ho raggiunto detto ma sai c'era quel diffusore sono anni che lo voglio lui fa vabbè te lo regalo io ma sei sicuro sì sì sono sicuro te lo regalo prima di questo quando noi siamo entrati da muci io ero talmente tanto presa che stella ha urlato buongiorno io non ho detto niente lei mi ha cazziato mi ha detto tu non hai detto buongiorno scusami quindi quando siamo usciti io ho detto arrivederci però l'ho detto a bassa voce perché comunque il negozio era pieno di gente i commessi non è che erano vicino alla stella è uscita non si è resa conto mamma non l'ho detto è tornata indietro si è piazzata così dritta davanti alla porta sembrava sei l'ormone ha detto arrivederci ed è scappata e quindi il marito il mio maritozzo mi ha regalato il diffusore di muci tra parentesi chi si iscriveva la newsletter aveva anche il 10 per cento di sconto quindi abbiamo avuto un bel po di sconto perché 8 9 euro quasi 10 euro di sconto ed è questo ci hanno spiegato tutte le funzioni e anche con la luce più intensa meno intensa si spegne mi hanno spiegato come pulirlo quante gocce usare e ho voluto prendere il kit ovviamente rilassante non energizzante con gli oli essenziali di lavanda mandarino bergamotto il anghi lang credo che questo sarà una svolta tipo utilizzare in qualsiasi stanza della casa anche la camera da letto dei bambini bastano pochissime gocce quindi credo che questi lei ne metteva tre me ne ha consigliate di mettere tre a un timer quindi lo puoi utilizzare per tipo 60 minuti 120 180 poi si spegne da solo ed è meraviglioso fa questo fumo che non è vapore ma è un profumato e rilassante questa luce soffusa dentro secondo me per rilassarsi in camera da letto la sera leggendo libro è l'ideale e questo è quanto no perché prima di partire io mi ero dimenticata al burro cacao quindi sono entrata da iv rocher e ne ho presi due uno al karité che sto utilizzando perché c'era la promozione due burri cacao a tre euro poi ne ho preso una alla ciliegia mi hanno fatto iscrivere al newsletter quindi ho anche uno sconto del 30 per cento e mi hanno dato anche il kit scoperta trattamenti antietà ma come si permettono che non ho aperto ancora vediamo cosa c'è dentro allora ok ci sono due creme da giorno non siero e l'elisir anti rughe e il programma fedeltà con tutte le cose spiegate sulle varie piante utilizzate e questo è quanto questi sono i miei acquisti milanesi non ho preso più più niente non avevo bisogno di niente sono contenta perché ho preso tutte cose che mi servivano e quindi sono molto soddisfatta di non aver speso soldi in cretinate che poi tengo lì e non e non utilizzerò ho preso cose che mi servivano tutte quindi sono molto molto contenta quindi io vi saluto spero che il video si vi sia piaciuto se volete lasciare qualche commento se non volete dire qualcosa ci vediamo giù giù nel senso dei commenti un giorno quando verrò a milano con più calma organizzeremo se volete un incontro un caffè ci andiamo a bere un caffè no andiamo a milano ci andiamo a fare l'aperitivo e vabbè milano ce l'ho nel cuore la mia città adorata e quindi per me è sempre un piacere ritornare adesso che le bambine sono un po più grandi riescono a viaggiare più in maniera indipendente non vedo l'ora di ritornarci scuola permettendo vacanze permettendo e tutto il resto io vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao